5 Pizze più costose del mondo 5. Ninos Bellissima Pizza New York Questa pizza è ricoperta con tartufo bianco, formaggio fontina, caviale petrosian, ed è guarnita con oro commestibile. Prezzo 910 euro 4. Pizza 24K, Industri Kishen New York È una creazione di lusso guarnita con foglie d'oro commestibili, tartufo bianco, formaggio stilton, e una purea di patate. Prezzo 1365 euro 3. Pizza Louis Trizzi Favitas Family Pizzeria New York È guarnita con mozzarella di bufala, crema di tartufo bianco, funghi selvatici, formaggio scamorza, invecchiato, e oro commestibile. Il suo costo è elevato. Prezzo 1820 euro 2. Pizza Royal 007 Pizza on the Royal Londra Questa pizza è stata creata per celebrare il film di James Bond 007 È guarnita con caviale astice marinato, nella vodka salmone affumicato, e vari ingredienti di lusso, prezzo 2630 euro Numero 1, Pizza Loy, Trejim, Renato Viola, Salerno, Italia Preparata con ingredienti di alta qualità, come caviale astice formaggio di bufala, cuore di manzo, e cotta, in un forno a legna Prezzo, 8190 euro Prezzo, 8190 euro E, la sua carina, come caviale astice formaggio di bufala, ca.